ragazze digitali è un summer camp di informatica al femminile giunto ormai alla terza edizione rivolto a ragazze che frequentano la terza e la quarta classe delle scuole superiori un percorso formativo per superare il divario digitale di genere e promuovere il ruolo attivo delle donne negli ambiti lavorativi legati alle nuove tecnologie il primo in italia dedicato alle sole ragazze per quattro settimane presso la facoltà di ingegneria informatica di unimore a modena tante ragazze provenienti da modena reggio emilia e non solo possono imparare a creare un videogame con il linguaggio python esprimere la propria creatività digitale occupandosi della parte grafica e audio approfondire elementi di design social network sicurezza informatica e web publishing